Mi sembra di essere tornato indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale. Ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamo la parte, di certezza che si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi per favore, fatelo voi, ribaltate tutto per favore. Io mi ricordo che in quell'occasione c'erano quattro contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano sei piante e le hanno piattate, una qua, una là, una là, una là, poi sono sparite. Le piante erano il segno del si ricomincia. Vorrei anche che questa sera ci fossero quelle piante piantate per dire si ricomincia da capo. Grazie, grazie. Ma da dove prende tutta sta forza sto manco, grazie. Una forza incredibile. C'è un tedesco che mi ha telefonato, un giornalista tedesco che mi ha telefonato poco fa, proprio poco prima che mi telefonasse il mio amico e mi diceva ma che cosa sta facendo quel grillo? Se ne sente parlare dappertutto in tutta la Germania, l'Austria, se ne sente parlare in Jugoslavia, più in su, in Francia, in Inghilterra, in Svezia, in Norvegia, tutti vogliono sapere di questa cosa straordinaria che state mettendo in piedi, all'improvviso. Non mollate per favore! Non mollate! No! 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 Grazie a tutti.